C'è un sindaco uscente che mi pare abbia chiarito il fatto di voler continuare il suo mandato anche per i prossimi 5 anni ed è un sindaco che ha impegni importanti in questo territorio, avendolo scelto i suoi colleghi amministratori anche come presidente della provincia per cui aspetteremo che sia ovviamente il sindaco Scaiola a decidere e a in qualche modo a porre i temi sull'agenda e in questo caso credo di aver già chiarito che per noi il sindaco Scaiola ha operato bene in questi 5 anni come sindaco e ha operato bene in questi anni come presidente della provincia, stiamo ragionando ovviamente con lui anche dell'accessione del commissariamento del lato idrico e quindi di ridare alla provincia le competenze sull'acqua visto che gli appalti del nuovo acquedotto del Roia sono stati completati direi che è giusto che prosegua questa esperienza, lo farà con il nostro pieno sostegno e nelle forme e nei modi che deciderà e credo con cui si confronterà nelle prossime settimane con i partiti Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!